Il governo indiano non fa ancora parte dell'Open Government Partnership, è un'opportunità per noi, perché in questo settore ultimamente ci sono stati molti sviluppi e in questo dibattito sono coinvolte sia le istituzioni che i rappresentanti della società civile. Vorrei sottolineare che in India esiste una legge sul diritto all'informazione, utile ad esempio nella lotta alla corruzione, un diritto fondamentale, una tutela, soprattutto per le persone meno abbienti.